E di teatro oggi ci porta a conoscere un viaggio inedito in uno dei pilastri culturali della nostra città, ovvero l'immenso Vincenzo Gemito. Una carriera che parla da sé, che parla da sola, ma che in realtà c'era una vita molto intricata, conflittuale, tormentata da temoni che in realtà tutti noi condividiamo in tanti momenti della nostra vita. La sua vita, ma anche la dialettica conflittuale e continua tra genio e follia, sarà appunto al centro di Gemito, l'Art Rupazza. L'opera nata dalla collaborazione tra Nartea e Teatro Insagne che sarà in scena il 23 e 24 aprile al Teatro Civico 14 di Caserta e invece dal 26 aprile al primo maggio al piccolo Bellini di Napoli. Ne parliamo oggi in compagnia del suo autore e regista e interprete Antimo Casertano. Buongiorno Antimo, ben trovato. Buongiorno a voi. E con Mariano Pensa di Nartea. Buongiorno. Dunque, un viaggio inedito in uno dei pilastri culturali dell'Ottocento napoletano. Sì, in realtà più che pilastro dell'Ottocento, Gemito secondo me è un pilastro a livello internazionale, anche se non è uno degli artisti più conosciuti, come dire che la sua popolarità, la sua fama non è a livelli di Michelangelo, ma comunque è un artista che ha avuto una carriera ed un'esposizione molto, molto, molto importante. E' una carriera ed importante. Ecco, raccontiamo anche a pubblico un po' la figura che fu riuscirà dallo spettacolo. Che gemito ritroveremo? Allora, sicuramente Antimo ha scritto uno spettacolo tarato non soltanto su una parte legata a quella che è la vita e uscirà comunque un Vincenzo Gemito, diciamo, un po' bivalente da questo punto di vista. Quindi verrà raccontato quello che è il suo genere, la sua sregolatezza, ma soprattutto la sua psiche. Quindi quello che il pubblico appunto percepirà da questo spettacolo è una sorta di viaggio all'interno appunto della mente dell'artista. E inevitabilmente da quello che ne uscirà sarà anche una sorta di domande che il pubblico dovrà porsi. Che poi è bello del teatro, l'essenza poi del teatro è proprio quella di riuscire a fare in modo che lo spettatore si ponga delle domande piuttosto molte volte che restituirsi delle risposte. Guarda, io penso che il teatro sia questa la funzione del teatro, porre domande, insinuare il dubbio, aprire ad una riflessione questo. C'è soluzioni? Io non ne ho. Il teatro non ne ha al massimo, come dire, può porre una domanda e speriamo che almeno questa domanda arrivi. Arrivi al pubblico. Io dico di sì. Intanto vediamo proprio con l'asile nostro registratore del mondo delle immagini che rimandano appunto allo spettacolo. E quello che viene appunto in evidenza per l'appunto Antimo, lo dicevamo prima, è la figura conflittuale, una vita tormentata, alla ricerca di una personalità che tende sempre a ricercare la perfezione del sé, una perfezione che probabilmente non riuscirà a trovare mai e che vive di un tormento continuo, un tormento conflittuale ed è una ricerca che però più che essere proiettata verso il successo è proiettata verso la conoscenza della verità. Arriverà mai questa verità? Probabilmente mai? Ma questo, come dire, è difficile da dirlo anche perché, come dire, non conosciamo Gemito in persona, quindi non sappiamo poi se lui abbia trovato questa verità, questa perfezione. Però, come dire, parliamo di una personalità che oltre a livello artistico, oltre alla questione artistica, parliamo di una personalità a livello umano che è sempre stata tormentata. Cioè parliamo di un uomo che è stato abbandonato all'annunziata, viene abbandonato all'annunziata, quindi ecco, vedi già la morte lo perseguita dall'inizio. A nove anni va a vedere questo circo, il circo Ghigliarmo al Bellini, cade da una scala, va in coma e quindi, come dire, la morte comunque lo perseguita. Quindi abbiamo una personalità molto tormentata e alla ricerca sempre di se stesso. E quindi Gemito diventa, in questo caso, nello spettacolo diventa un pretesto per me, autore e interprete, per interrogarsi e interrogarci sulla questione umana, sulla vicenda umana. Tutti noi abbiamo delle... Dei demoni interiori. Tutti noi siamo tormentati, no? Ora non voglio fare la... come dire, non voglio ridurlo tutto alla pazziella del diavolino e della... No, certo, certo. No, non lo stiamo sminuendo, però. Tutti abbiamo delle voci che ci parlano, tutti abbiamo dei tormenti, tutti abbiamo dei demoni, ma questo non solo a livello artistico, tutti, anche un ingegnere, secondo me, ha dei demoni, ha degli scheletri sotterrati in giardino che non riesce a... Tra l'altro, esemplificativo il fatto di quanto Gemito stesse male è che durante la sua vita lui addirittura condurrà parte della sua vita in manicomio e poi fino ad andare in clausura domestica, una clausura domestica che dura addirittura venti anni. Vent'anni, sì. Quindi questo fa comprendere... Si autoreclude in casa per vent'anni. È un dolore enorme, no? Che lo stesso ha provato. Io credo che quell'autoreclusione sia figlia del tormento e figlia soprattutto della paura, del giudizio, del fallimento, no? Cioè lui è andato incontro, quando gli viene proposto di produrre quest'opera che è il Carlo V, lui non ha mai lavorato il marmo, è sempre stato per lui un materiale odioso, Quando gli viene proposta questa commissione, commissione che lui tra l'altro odia, odia proprio il termine commissione, perché lui è un artista vero, fa quello che sente, ecco esatto, si fa quello che viene dettato. Ecco che gli viene il mostro, gli viene... e quindi si è autorecludo in casa per paura del fallimento e quindi io ho immaginato che in questi venti anni chiuso in casa sia stato tormentato, sia stato, come dire, posto sotto il gioco del suo demone. Sotto il gioco del suo demone però probabilmente è proprio qui che sta quella chiave che per l'appunto non riesce a conoscere quel superamento dialettico, no? Fra tesi e antitesi perché da un lato c'è il genio, dall'altro lato c'è la follia, allora bisognerebbe capire se la follia in questo contesto possa rappresentare per gemite quel valore aggiunto oppure un limite. È una verità che probabilmente, come diceva prima, non riusciamo mai a conoscere, perché probabilmente è proprio quella follia che l'ha portato a quella genialità. La follia è uno starter all'arte sicuramente, che di base però non viene, come dire, influenzata negativamente per forza dalla follia, cioè noi questo messaggio vogliamo dare, assolutamente. Poi tra l'altro la dicotomia tra quello che è reale e reale, appunto è un po' anche la dicotomia che viviamo tutti i giorni. Quindi il fatto che noi tramite gemito riusciamo, cerchiamo perlomeno di insinuare appunto il dubbio nel pubblico, ma effettivamente l'essere umano poi quanto effettivamente riesce a diventare reale e reale, lo viviamo tutt'oggi ovviamente anche con l'utilizzo dei social in verità dove appunto la realtà e la finzione viene alterata. Viene alterata e sconfinata. Perdonami, io ci tengo, come dire, questa è una idea mia, io ci tengo a sfatare un po' il mito e il luogo comune genio folle. Secondo me, come dire, questo non solo per quanto riguarda gemito, ma secondo me per tutti, chi ha un periodo di follia non riesce mai a produrre poi qualcosa che sia a livello importante. Cioè nel senso gemito quando ha prodotto le sue migliori opere sono nel suo miglior periodo di lucidità, quando poi diventa folle, cioè diventa folle, quando si chiude in questa sua follia ha prodotto pochissimo. Quindi secondo me il, come dire, il luogo comune genio folle a volte va un po' sfatato. Deve essere sfatato. E speriamo che in questo spettacolo, come dire, riusciamo a sfatare questo video. Esatto, che ne emerga la sua, ecco, massima importanza in tutta la sua interezza e integrità. Intanto ricordiamo l'appuntamento, uno spettacolo che nasce con la collaborazione tra Nartea e Teatro Insania. Lo spettacolo si chiama Gemito, l'artropazzo. L'artropazzo, perché in napoletano vabbè si dice stai facendo l'artropazze, sai quando fai l'artropazze e poi ovviamente anche l'accezione proprio l'artropazzo. L'arte, l'arte, comunque si parla di arte. In scena, 23 e 24 aprile al Teatro Civico 14 di Caserta, dal 26 aprile a primo maggio al piccolo Bellini di Napoli. Un'occasione imperdibile per applaudire l'autore e regista agli attori, ma soprattutto per conoscere il grande Vincenzo Gemito. Grazie all'autore e regista e interprete Antimo Casertano, grazie a Mariano Pensa di Nartea. Posso aggiungere un'ultima cosina? Le sei repliche che saremo al Bellini dal 26 aprile al primo maggio saranno impreziosite da una piccola mostra di otto opere che ci sono state concesse dagli eredi di Gemito e Guerritore, le fonderie Gemito, e saranno poste giù in foyer per tutti coloro che vogliono venire a mirare. Per avere ancora contezza e chiarezza di questa genialità. Esatto, e saranno in anticipo, verranno immersi a tutto tutto. Insomma, un biglietto, due spettacoli. Esatto, la cultura a tu cura, 360 gradi. Grazie, restate con Mattina Live, pubblicità.